Siracusa, ignobile, un atto ignobile, oltre furti il vandalismo. Il ministro ha promesso di intervenire. La città intera deve reagire dinanzi a questa aggressione ai luoghi della cultura e dei più piccoli. Solidarietà alla dirigente dell'Istituto Scolastico Vittorini, Pinella Giuffrida. Il dirigente scolastico ha chiesto ben cinque volte all'Ufficio Tecnico l'autorizzazione a installare un antifurto. Interviene il direttivo del Circolo di Fratelli d'Italia, Aretusa. Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire rapidamente in aiuto alla dirigente, provvedendo rapidamente alla eliminazione dei danni e adottare la scuola di un impianto di videosorveglianza. Ma chiediamo anche al sindaco, all'assessore al ramo e al dirigente comunale di effettuare le necessarie verifiche interne per accertare eventuali responsabilità. Sarebbe veramente grave il silenzio reiterato degli uffici comunali dinanzi agli appelli disperati della dirigente scolastica. Cosa non ha funzionato? Chi doveva rispondere e perché non l'ha fatto? L'amministrazione comunale deve essere sempre disponibile dinanzi alle richieste di tutti i cittadini e dare risposte in tempi brevi. E ora, urgentemente, l'amministrazione comunale corre ai ripari anche per eventuali altre scuole sprovviste di adeguate misure di protezione dagli atti vandalici per compiere tutti gli interventi manutentivi e organizzativi necessari sulle strutture scolastiche e sulle aree urbane limitrofe, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, già complicato dall'epidemia Covid-19. Intanto il ministro dell'Istituzione Azzolina si è interessato al caso della scuola di Siracusa che in un solo mese è stata derubata e vandalizzata sette volte. Penella Giuffrida, la presa della scuola dell'infanzia Montessori, da tempo chiede un impianto di videosorveglianza al plesso distaccato dell'Istituto Comprensivo Vittorini. I ladri hanno rubato di tutto, la lavagna multimediale, i computer, hanno distrutto porte e redi, anche giocattoli. Il ministro ha promesso di intervenire.